E' stato pubblicato l'avviso relativo al progetto della Regione Abruzzo, Lavorare in Abruzzo, finanziato con 10 milioni di euro del Piano Operativo 2009-2010-2011 del Fondo Sociale Europeo 2007-2013 e giunto alla sua terza edizione. Si rivolge nuovamente a tutte le aziende del territorio regionale. I 10 milioni a disposizione del sistema produttivo e del tessuto sociale abruzzese potranno potenzialmente generare mille nuove opportunità di lavoro. L'avviso prevede bonus del valore di 10 mila euro per l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori svantaggiati, bonus di 5 mila euro per la trasformazione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato, una nuova linea che consente l'aumento delle ore nei contratti part-time. Lavorare in Abruzzo ha già prodotto in 22 mesi oltre 3 mila nuove opportunità di lavoro a tempo indeterminato, coinvolgendo oltre mille aziende, finanziate con ben 26 milioni di euro. L'assessore regionale Paolo Gatti a tal proposito dichiara «è un progetto divenuto un modello di contrasto efficace alla dura crisi del mercato, imitato e replicato in altri territori italiani ed europei, perché incide con efficacia sui due aspetti cruciali dell'attuale crisi economica, contrasta la precarietà, spingendo le aziende a creare rapporti a tempo indeterminato, abbatte in modo considerevole il costo del lavoro per le imprese». Nella prima edizione, ricorda l'assessore Paolo Gatti, abbiamo inoltre garantito l'ingresso di molti giovani e donne nel mercato, grazie ad incentivi maggiorati. L'assessore Gatti si dice inoltre fiducioso che offrire nuovi stimoli alle imprese possa essere la strada giusta per conservare i livelli occupazionali o comunque evitare in questa fase di crisi pesante e morragie di posti di lavoro.